E ritorniamo in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Parliamo ancora di saldi, delle liberalizzazioni per le orali, delle attività commerciali. Le telecamere di CatalanTV hanno proseguito il loro giro nel centro cittadino per sentire un po' il parere delle persone. Signora, passeggio per il centro storico. Per il centro storico, esatto. Periodo di saldi, ha comprato? No, non ho comprato niente. Ho comprato un po' di scarpe senza saldi però, nel periodo dei saldi. Tutto qui, basta. Un colfino OVS, glielo devo dire, con 30% di sconto. Comunque ha comprato anche lei qualcosina? Basta. Ma non ha intenzione di comprare nient'altro? No, no. La crisi si sente? La crisi si sente parecchio. La sentono, in famiglia si sente in effetti. Non la sento personalmente però si sente nell'ambito familiare. Signora, buonasera. Lei è una commerciante, vende calzature qui nel centro di Alghero. Volevamo sapere da lei com'era l'andamento dei saldi. Va bene, in questo momento abbiamo ripreso a vendere. Nel mese di dicembre invece c'è stato un calo vertiginoso e insomma non si è venduto quasi niente. Quindi nel periodo dei saldi qualcosa si compra? Nel periodo dei saldi sì, si sta vendendo abbastanza. Come giudica l'ultimo anno? Non buono. C'è una recessione veramente eccessiva. Per quanto riguarda invece gli orari, ad esempio si è parlato in campo nazionale della liberalizzazione comunque degli orari, dei negozi che tengono aperto comunque sempre. Volevo sapere cosa ne pensava? In una città turistica come Alghero già si è abbastanza flessibile? Sì, penso che debba essere flessibile l'orario. A me non mi creava nessun problema. Insomma, io tanto comunque faccio i miei orari indipendentemente dagli altri. Buonasera, un signore a passeggio per il centro storico con una busta, acquistato in saldi? Sì, sì, abbiamo acquistato qualcosa in saldi. Volevo sapere se comunque il periodo dei saldi per voi è stato un periodo dove avete acquistato di più? No, 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 non abbiamo acquistato né prima né dopo. Solo abbiamo approfittato di questi prezzi bassissimi e abbiamo comprato poca roba però. Qualcosa di abbigliamento, cioè cose primarie? Certamente, abbigliamento. Come vede il periodo? Un periodo di crisi? Bruto, tristissimo. Tutta colpa di Monti e di quelli che l'hanno poggiato. La fortuna ripassa in città, gratta e vinci fortunato da 10.000 euro ad Alghero. Una signora residente in città ha acquistato una scheda da 5 euro della serie Cominciamo Bene, realizzando la vincita e cominciando effettivamente bene il nuovo anno. Il biglietto è stato venduto presso il tabacchino Pisano Marcella in via 20 Settembre 201, un luogo baciato dalla fortuna anche alla fine del mese di dicembre, quando, grazie ad un sistema per il superenalotto ideato dagli stessi gestori del tabacchino, sono stati vinti circa 19.000 euro da dividere tra i 26 clienti che hanno acquistato le quote. Tra superenalotto e gratta e vinci, le apparizioni della dea bendata nel tabacchino e in città si ripetono continuamente, quasi a voler dare una mano ai cittadini in un momento difficile come quello attuale. Ed ora allo sport. Come di consueto, il lunedì ci occupiamo dei risultati delle squadre algheresi. Cominciamo con il calcio, quello d'eccellenza, si è giocata la quinta giornata di ritorno. L'Alghero ha perso 2-0 in casa del Taloro Gavoi ed è scivolato in quinta posizione. Il Fertilio invece si riprende il terzo posto, vista la vittoria al Mariotti per 4-3 contro il fanalino di coda Villacidro. Nella ventiduesima giornata del campionato di eccellenza, quinta del girone di ritorno, muta ancora la classifica di 1945 Alghero e Fertilio. I primi sono scesi di nuovo al quinto posto, vista la sconfitta per 2-0 con il Taloro Gavoi, ora a quarto, mentre il Fertilio ha vinto al Mariotti per 4-3 contro il fanalino di coda Villacidro ed è ripassata terza. Nella gara di Gavoi, dove si gioca su un campo in terra abbattuta, i padroni di casa non si smentiscono e ancora una volta escono imbattuti dopo 90 minuti fra le mura amiche. Le reti che hanno portato alla vittoria la formazione di mister Cirina sono state realizzate entrambe nella ripresa da Sanna e Puddu. Una gara sostanzialmente equilibrata, almeno fino alla rete del primo vantaggio gavoese. I giallorossi di mister Calvia, che ieri ha schierato comunque Serra, Andrea Peane e Barrocu, non in perfette condizioni, hanno anche rischiato di segnare per primi con un paio di azioni, ma alla fine su un errore difensivo è nato il vantaggio dei padroni di casa, che hanno poi, come detto, trovato il raddoppio al 79esimo. I catalani dunque sono stati fermati dal Taloro dopo 5 risultati utili consecutivi. Vittoria a Casalinghe invece per il Fertilia. Ieri al Mariotti la squadra di Pabllo, per 4-3 il fanalino di Coda Villacidro. Come già annunciato alla vigilia, i canarini sono scesi in campo in stato di emergenza, viste le assenze di ben quattro titolari squalificati. Il portiere Piras, Puddu, Mereu e Manconi. Una partita sofferta e tirata fino alla fine, che vedeva gli ospiti intenzionati a portarsi via punti, galvanizzati anche dalla vittoria ottenuta nel turno precedente con il Taloro. A sbloccare il risultato è il Fertilia, che trova la rete dell'1-0 con Roberto Carboni. Poi due punizioni in meno di 5 minuti, una dall'altra, entrambe a firma di Azzeni, portano lo scorso il 2-0 per i Villacidresi. I giuliani trovano il pareggio al quarto d'ora del secondo tempo, con il neo entrato Nicola Sanna. Poi la doppiata di Capitan Carboni, che pareva aver chiuso definitivamente la gara, ma così non è stato, perché gli ospiti vanno ancora in rete per il 4-3 con Porcedda e si sono resi pericolosi anche nel recupero. È comunque finita con il successo del Fertilia, che si riprende così il terzo posto in graduatoria. La classifica vede al comando sempre la Torres a più 10 dall'Olbia. Continuiamo con il calcio in promozione, dove si è giocata invece la seconda giornata del girone di ritorno. C'è da registrare la sconfitta dell'Olmedo per 5-0 in casa della capolista Latte Dolce. La squadra di Mister Muroni, che nello scorso turno ha centrato la sua prima vittoria stagionale con l'Ozzierese, guadagnando i tre punti, non è riuscita ad arginare la prima della classe, che come detto ha superato i bianco-verdi con 5 reti. In seconda categoria vittoria per 3-1 della Pietraia Alguero contro l'Atletico Uri, sale a quota 28 punti, perde invece il Maristella 2-1 con il Calmedia e resta ferma a quota 15 punti. È dal calcio al basket, ritorno alla vittoria per la Mercedes Alguero. ha superato le officine Gaudino con legno per 73,55. Un successo quello delle bianco-azzurre che interrompe una serie negativa di ben otto sconfitte consecutive e risoleva il morale, anche se la strada per il raggiungimento della salvezza è ancora lunga e difficile. Due punti, quelli guadagnati sabato, che consentono alla Mercedes di raggiungere quota 8 in coabitazione con la Virtus Cagliari e di staccare in classifica proprio le piemontesi, di ferme a 6 punti, con il vantaggio di avere nei confronti di queste ultime la differenza Canestri a favore, più 18. La vittoria ottenuta sabato al Palacorbia contro la officine Gaudino con legno per 73,55 è stata convincente. Un successo dunque meritato, il secondo tra le mura amiche, in virtù di una gara condotta in testa dal primo all'ultimo minuto. Un risultato mai messo in discussione, come confermani parziali, 22,15, 45,27, 58,43 e il finale 73,55. Una prestazione inoltre collettiva per le ragazze di coach Pacari decisamente confortante in vista dei prossimi importanti impegni. La squadra algherese priva di Paola Cucchiara, che dovrà stare ferma per i problemi al ginocchio, poteva contare invece sul capitano Manuela Monticelli e su Francesca Rosellini al loro esordio casalingue in questa stagione. Nelle fila della formazione di coach Pacari ci sono da mettere in evidenza le ottime prestazioni della bulgara Slavova, 27 punti e 14 rimbalzi, di Elisa Donati 19 punti, molto bene anche Giulia Forni 9 punti e 12 rimbalzi e Costanza Giorgi 7 punti. Per le piemontesi Bene Pignetti 15 punti e Montanaro 13. Adesso il calendario riserva per la Mercedes due importanti sfide e salvezza. Sabato prossimo a Marghera e la settimana successiva il Palacorbia contro il Borgotaro. Il basket chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale. vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.